Dalla mia candidatura mi aspetto un segno tangibile di cambiamento che è importante. Da questa frazione mi aspetto l'amore a cui io ho sempre donato, perché comunque diciamo che Villa Gentiloni fa parte di Bartoluccio, Tornazzano è limitrofe e attaccato a Bartoluccio, perciò la mia intenzione è quella di dare un segno tangibile di quello che abbiamo apportato come modifiche negli ultimi sei anni dopo la presa con il modello Villa Gentiloni. Ma la cosa che più mi tocca particolarmente è quella proprio del santuario di Tornazzano. Dovete sapere che il santuario di Tornazzano è un elemento talmente importante della storia filotranese, non solo che sarebbe da dargli un rilancio importante ma soprattutto una spinta. Oltre al rilancio tocca farlo conoscere e dobbiamo mandarlo di moda, dobbiamo rimandare di moda anche tutte le cose a cui eravamo devoti un tempo e sono qui per questo.